Ciao a tutti i nostri spettatori, io sono Emilio Frattaroli, io sono Nicola Turchini-Buriani e questa è la rassegna delle news della settimana di AV Magazine, questo è un primo appuntamento di una lunga serie, speriamo, ci impegniamo a produrre ogni fine settimana in cui passeremo in rassegna tutte le notizie principali su novità e temi legati all'audio video con riferimenti e link non soltanto ad AV Magazine ma anche alle principali fonti nazionali e internazionali e iniziamo Nicola subito questa prima puntata con il Consumer Electronic Show per gli amici CES, ovvero la fiera dedicata all'elettronica di consumo a 360 gradi che si è svolta a Las Vegas quest'anno tra il 9 e il 12 gennaio ma che per i giornalisti e per gli 2-3 giorni prima con le anteprime dedicate alla stampa. Io quest'anno per la seconda volta AV Magazine non c'era, non sono andato, io sono rimasto a casa, ci siamo goduti tutti quanti della redazione, le conferenze in streaming per vari motivi, quindi non siamo andati sicuramente, ricordiamolo però perché sembra un grande divertimento, una gran bella passeggiata, ma in realtà la sveglia sono tante ore di volo, 9 ore di fuso e una giornata tipo che è veramente molto impegnativa perché si inizia magari anche alle 8, quindi vuol dire che tu devi essere lì un po' prima, quindi la sveglia è a una certa ora, all'alba e la giornata in fiera o comunque negli eventi finisce magari alle 5, alle 6, c'è anche il dopo cena perché è una parte importante di Las Vegas sono anche le pubbliche relazioni o magari gli eventi che ci sono dopo cena legati comunque a prodotti e a temi importanti, alla fine finisci in hotel alle 10 e mezza se va bene 11 se non anche più tardi, nel frattempo in Italia è già mattina e quindi devi anche cominciare a scrivere perché voglio dire tu stai lì ma devi anche produrre contenuti e alla fine finisci a dormire alle 4, alle 5 della mattina e poi inizia un'altra giornata sempre con gli stessi orari, quindi comunque è un impegno piuttosto importante dove però ormai l'audio non c'è praticamente più, non c'è più quella gran quantità di espositori legate all'audio di fascia media e anche di fascia alta, sono rimasti pochissimi espositori e dei televisori ormai sono delle aziende che non ci sono più, ci sono come presenza dello stand ma non ci sono i prodotti per esempio Sony che presenterà i suoi nuovi tv penso tra qualche settimana, non c'è Philips, in realtà non c'è mai stata perché Philips è di fatto la distribuzione più europea che ha appena annunciato la sua nuova gamma non c'è di fatto Panasonic, anche qui non hanno distribuzione di televisori negli Stati Uniti e anche qui c'è stato l'annuncio ma i prodotti veri e propri li vedremo tra qualche settimana TCL tra i grandi è quello che in realtà ci ha fatto vedere già tutto prima, cioè a novembre prima del CS e comunque le novità che hanno annunciato al CS in realtà noi le avevamo già viste a IFA o anche al CS dell'anno prima mi riferisco ovviamente al 115 pollici, sì c'era comunque iSense che ha annunciato una nuova gamma e anche altri prodotti adesso li vedremo, Samsung, LG sicuramente e anche altri però di fatto sta avvenendo meno l'importanza di essere lì anche perché tra i prototipi che è possibile vedere a Las Vegas magari o non sono nelle condizioni migliori per essere analizzati o comunque bisogna firmare degli NDA che poi ti impediscono di fatto di pubblicare particolari e proprio di questo ci occuperemo però ecco tu che hai seguito come me Las Vegas, le novità comunque ci sono state non è stata una fiera insipida, dico bene? sì sì ci sono state molte novità, hanno comunque presentato sia Samsung sia come abbiamo detto Panasonic che tradizionalmente sono sempre solo i top di gamma che diciamo che più che presentarli è un po' un primo assaggio poi ci sono state sicuramente novità LG anche se in realtà noi le avevano già comunicate prima quindi infatti abbiamo pubblicato in realtà qualche giorno prima dell'inizio vero e proprio del CS e poi insomma sì quindi ci sono state diverse cose di cui parlare sicuramente diciamo che sono un po' mancati appunto Sony in realtà che è mancata ma anche un po' no adesso poi ci arriveremo sì ci arriveremo pianino pianino tra le novità quelle più sbandierate che abbiamo visto anche nella stampa non specializzata c'è il primo tv oled trasparente di LG e qui vi consigliamo l'articolo, l'articolo di Gianluca Di Felice che era presente certo abbiamo parlato anche noi di AV Magazine definendola comunque una novità diversamente utile adesso non mi ricordo neanche cosa hai scritto diciamola allora diciamo aspetta aspetta diciamola bene allora innanzitutto è una novità nel senso che il primo tv col sintonizzatore perché in realtà di monitor oled trasparenti ce ne sono da parecchi anni e sono utilizzati nel settore professionale, nel signage quindi nelle vetrine digitali anche in altre applicazioni però questo è il primo prodotto tv nel senso che si può comprare un bel sicuramente un bel oggetto d'arredamento ma con una qualità che ci lascia un po' perplessi perché il problema principale è il rapporto di contrasto si può anche salire una tendina dietro però ecco il rapporto di contrasto sfido chiunque a ipotizzare che sia meno che accettabile però rimane un bellissimo oggetto di design che fa tanto parlare li ha affatto tanto parlare quindi sono stati brevissimi quelli di LG vuoi aggiungere qualcosa? si infatti avevo parlato di sicuro grandissimo effetto wow però per chi cerca la qualità i prodotti che propone LG sono le altre serie questo è molto di arredamento, molto d'effetto anche perché ha il box wireless come la serie M quindi si riesce proprio a piazzare come un complemento di arredo però diciamo che è molto quello se cercate le prestazioni LG con gli OLED ha altri prodotti certo e a proposito di LG, LG comunque ripeto qualche giorno prima ha presentato l'intera gamma quindi serie 4 esatto quindi M4 ovvero quello wireless G4 ovvero con le micro lenti C4 eccetera di cui tu hai parlato c'è un bell'articolo si le novità sono diverse vabbè c'è la nuova versione di WebOS che si porta anche dietro i 5 anni di aggiornamento garantiti che non coinvolgono tra l'altro solo alla gamma 2024 hanno già dichiarato che anche molti tv 2022 non solo OLED anche QNED quindi anche LCD sono tutti interessati tra gli OLED perché hanno tutti più o meno dei motivi di interesse per esempio prendiamo la gamma B4 che è sempre stato da quest'anno non c'è più l'A che l'anno scorso c'era ancora si ricordiamo che erano quattro le serie l'A e la B molto simili tra di loro esatto differenza più che altro sul piedistallo e su alcune però sono molto simili l'anno scorso tra l'altro l'A non era comunque arrivato in Italia quindi a noi veramente cambia pochissimo la B ha il processore nuovo dall'Alpha 7 di sesta generazione si passa all'Alpha 8 l'hanno proprio cambiato il nome per dare uno stacco rispetto al passato loro dicono che è nettamente più prestante e dovrebbe anche avere anche se l'hanno confermichiato diciamo che non c'è la sicurezza al 100% sembra che ci siano anche quattro porte HDMI 2.1 che era una delle cose che la serie B aveva in meno rispetto alle altre aveva quattro porte HDMI ma erano due le HDMI 2.1 quindi ad esempio se usavate il canale di ritorno audio, gli ARC ne avevate una libera perché gli ARC era su una delle due HDMI 2.1 quindi questo è importante già poi dalla C abbiamo anzitutto che vanno i pannelli a 144Hz non più 120Hz si sono praticamente aggiornati come altri puntando molto sui videogiochi perché 144Hz oggi servono se ci collegato un PC da gioco molto potente neanche con le console ci è arrivato no, le console no non è vero l'Alpha, cioè il C4 rimane con l'Alpha 9 però passa generazione dopo poi c'è G4 e M4 invece anche qui c'è il processore nuovo qui addirittura hanno saltato un numero per far sapere calcare ancora di più che le prestazioni sono migliorate non c'è l'Alpha 10, erano l'Alpha 9 l'anno scorso sono l'Alpha 11 loro dico molto più potente qui ci sono anche delle varie elaborazioni aggiuntive rispetto agli altri c'è anche una modalità che loro dicono dovrebbe elaborare l'immagine ma preservando la volontà del regista vedremo vedremo sì vedremo io come sai sono molto scettico su queste elaborazioni anche perché nella maggior parte dei casi noi spegniamo sempre tutto quindi bisognerà poi vedere in pratica se ci saranno differenze proprio nella quella di immagine generale proprio se i pannelli magari sono dissipatori più potenti quindi meno ritenzione più luminosità vedremo ovviamente gestione delle basse luci questo potremmo vederlo cioè non basta andare a Las Vegas per vederlo bisogna avere il prodotto in mano con gli strumenti e fare test sì anche perché per esempio presentandolo LG Display ci ha calcato la mano più che altro è la divisione che fa i pannelli esatto i pannelli della serie G4 e M4 dichiarano quella Meta Technology 2.0 che sono micro lenti più algoritmi quindi elettronica aggiornata per gestirle meglio fino a 3000 nit di luminosità però di un piccolo illuminanza scusate però attenzione sono 3000 nit misurati al 3% con una temperatura colore freddissima quindi non sono 3000 nit probabilmente andremo intorno ai 1500 una cosa del genere mi aspetto più o meno così erano circa 1300 più o meno l'anno scorso piccola nota la temperatura colore è freddissima in realtà è freddo nel senso che è tendente al blu perché in realtà la temperatura colore è molto più alta tipo 9000 quasi 10.000 mi pare sì 9500 quasi 10.000 poi quindi messo da parte per un attimo LG novità Las Vegas invece è la gamma Samsung e lì c'è stata una delle novità secondo me più interessanti anche secondo te immagino che è il nuovo filtro antiriflesso nel top di gamma nel QD OLED di Samsung e anche qui sì ne hai parlato anche te però segnaliamo magari ecco l'articolo di Centofanti su D-Day che c'è stato e magari qualche informazione in più la può dare quindi vi invitiamo a leggere il suo articolo Cento con cui hai anche parlato mi ha confermato la bontà di questo filtro che è molto interessante perché finora gli OLED hanno tutti questo display a specchio che in qualche occasione dà fastidio anche con la stanza completamente buia perché di fatto con le immagini HDR magari c'è qualche elemento molto luminoso che di fatto ti illumina e tu ti specchi nello schermo quindi tu che ne pensi per esempio? sì, innanzitutto è un po' più importante sui Samsung perché QDO del loro è noto avevano qualche difficoltà in più a gestire i riflessi la luce in ambiente è vero anche questo sulla schermata nera gli ingrigiva un po' il pannello un po' come facevano i vecchi plasma se qualcuno si ricorda sì e qui sottolineiamo anche la comparativa che fece Philips per mostrare che il loro OLED con pannello white RGB con alla luce era più nero del Samsung che invece rimaneva un po' grigio certo chi lo vede al buio questo problema non ce l'aveva ovviamente ovviamente poi il filtro dovrebbe essere praticamente un omologo riadattato di quello che c'è sui Z-Frame da qualche anno lì lo chiamano matte display e l'avevano fatto proprio perché Z-Frame serve magari per vederci le riproduzioni digitali delle opere d'arte con questo filtro opaco che tutta la sua azione per contrastare la luce in ambiente dava più l'impressione di vedere un quadro vero tra l'altro sentivo anche che ne ha parlato anche Insight Media e che sono erano presenti vediamo www.insightmedia.info sì ne hanno parlato anche loro c'è anche un video sul loro canale YouTube dicevano che per realizzare questo filtro sono stati molto attenti allo spessore del filtro stesso perché secondo quello che hanno carpito da Samsung che purtroppo non permetteva riprese o foto di nessun genere dove hanno fatto vedere appunto l'efficacia per riuscire a ottenere un efficace filtro antiriflesso di questo genere bisogna stare molto attenti perché se lo spessore del filtro è troppo sì la dispersione della luce cioè quindi si contrastano molto bene i riflessi dati dalla luce in ambiente ma si perde molto micro dettaglio e hanno quindi lavorato di fino per arrivare al compromesso giusto tra micro dettaglio e efficacia del filtro antiriflesso quindi questo è molto interessante sicuramente è una delle novità più grosse perché veramente su molti OLED basta provarli ci si specchia in certe condizioni di riuscire in ambiente e questa potrebbe essere una bella differenza soprattutto tra i due Q di OLED ovvero quello Sony e quello Samsung però anche qui dovremo per forza aspettare di effettuare i test con i nostri segnali e via abbiamo parlato prima di Samsung e Philips Philips invece che non era a Las Vegas che ha presentato la sua nuova gamma ne hai parlato tu su AV Magazine magari ci si sa dire qualcosa di più si Philips ha presentato in settimana tutta la gamma europea ci sono nuovi TV OLED e ci sono anche i mini LED e le LCD The One iniziamo secondo me da quelli che sono i più interessanti sono gli OLED Plus il Plus sta a indicare gli OLED che hanno integrato un sistema audio sviluppato in collaborazione con Bowers e Wilkins quest'anno a differenza dell'anno scorso abbiamo due prodotti l'OLED Plus 959 che è il top di gamma e l'OLED Plus 909 da ricordare tra l'altro che agli alterni questo succede in genere l'anno scorso ad esempio non era uscito un top top di gamma oltre al 908 ma l'anno prima si infatti questo ricorda molto i modelli che aveva già lasciato rilasciato in passato Philips ricordiamo infatti che ce n'erano alcuni come questo l'OLED Plus 959 ha un piedistallo da pavimento lo montate a parete o da pavimento non c'è la base da tavolo perché serve anche diciamo che è molto anche di impatto e non è un caso che gli abbiano montato anche la nuova versione dei Lambi Light Lambi Light Plus che ha dietro i LED raggruppati in una maniera diversa sono gruppi di 4 il LED dietro e li hanno sfalsati indirizzati anche qui con delle micro lenti in modo che i giochi di luce vengano proiettati sfalsati anche dalla distanza in modo da fare e diventa quasi una proiezione in 2D non è più un solo sì non è più solo un gioco di luce così e oltretutto hanno cambiato anche il modo in cui viene ricreato il gioco di luce generalmente sull'Ambi Light cosa fa il processore vi analizza le immagini in tempo reale e riproduce i colori che ci sono solo ai bordi dall'Ambi Light Plus invece prende anche la zona più interna proprio per fare l'effetto più in profondità un po' più sofisticato questo sarà interessante ovviamente è una cosa che a molti appassionati magari non gli interessa però effettivamente l'Ambi Light se piace un effetto grosso ce l'ha nell'incoivogimento visivo anche qua abbiamo i pannelli Meta Technology 2.0 quindi i microlenti gli stessi che ci sono sulle serie di LG l'M4 e il G4 e la stessa cosa vale per l'OLED Plus 909 che è quello subito fascia inferiore l'unica cosa è che questo ha l'Ambi Light su quattro lati l'Ambi Light Plus tra l'altro è su tre lati ma anche sotto però è la versione più vecchia e ha una una sezione audio molto più semplice perché il 959 ha proprio un impianto praticamente Dolby Atom 5.1 2.2 canali si con con diffusori Bowers Wilkins esatto sono tutti e due sottotrasduttori nuovi qui anche segnaliamo che per l'Italia c'è la subdistribuzione di questi prodotti quindi con l'impianto audio Bowers Wilkins e del gruppo Onvision e contiamo di metterci le mani insomma prima possibile esatto esatto poi tolti gli OLED Plus si passa alle serie di fascia diciamo più convenzionale hanno presentato l'OLED 809 che praticamente si inserisce in continuità con il modello del 2023 ci sono i pannelli qui sono gli OLED EX di ultima generazione quindi un po' più ottimizzati probabilmente si spunterà qualcosina sul picco di luminanza però non ci sono microlenti dei particolari cose da segnalare da notare che in teoria è stata nominata anche una serie 7.5.9 della quale però praticamente non abbiamo informazioni stiamo cercando di reperirne ecco compariva in una slide quando si parlava dei processori perché anche i processori li hanno aggiornati sono i P5 con AI quindi intelligenza artificiale dell'ultima generazione la cosa interessante è che come succedeva già in passato con le Ammiralie Philips quelli appunto superiori agli OLED Plus quelli con impianti audio molto molto evoluti nell'ultima Ammiralia il 959 c'è un doppio processore quindi ha qualcosa in più adesso da capire anche qua dovrebbero esserci alcune elaborazioni più sofisticate che lo sappiamo anche sul sensore di illuminanza quindi come si regolano in base alle luci d'ambiente da vedere anche come si comporteranno con i videogiochi perché in passato c'erano delle differenze tra quelli con doppio processore e quelli singolo una cosa proprio per i videogiochi anche i Philips passano a 144Hz anche in Dolby Vision e la cosa interessante è che da quest'anno hanno fatto una modalità in cui potete attivare la compensazione del moto nei videogiochi senza mandare l'input lag alle stelle sta più alto una trentina di millisecondi ma loro calcolano che senza questa ottimizzazione si andava a finire a 200 avendo provato molti tv negli anni si tranquillamente o ben oltre i 100 si si andava sempre più o meno senza ottimizzazione quindi interessante da vedere anche questo migliora un po' diciamo la sfocatura nei rapidi movimenti che effettivamente nei videogiochi può essere utile c'è poi Panasonic che ha annunciato le novità anche di questo abbiamo parlato però di fatto ripeto i prodotti per vederli bisognerà aspettare anche un pochino non c'era Sony ovvero non c'erano i nuovi prodotti Sony che saranno annunciati che saranno annunciati tra breve ma c'era comunque una novità e qui c'è da aprire una piccola parentesi perché aziende come Sony anche come Samsung a Las Vegas ma non solo a Las Vegas organizzano comunque degli approfondimenti per i giornalisti in delle dark room in cui però prima di entrare bisogna firmare un accordo di riservatezza non si possono fare foto e quindi diciamo che pur essendo delle presentazioni interessanti però spesso non si può dire praticamente nulla di quello che succede all'interno e non si possono pubblicare foto perché di fatto non si possono fare noi paradossalmente quest'anno non andando a Las Vegas siamo invece riusciti a pubblicare i contenuti perché c'è stata una fuga di informazioni nella presentazione Sony che era stata fatta in realtà prima della fine dell'anno se non sbaglio e alcuni giornalisti hanno pubblicato tra cui per esempio il canale YouTube di HDVD Test e tu sei stato in grado di fare un articolo molto interessante su quale tema ricordiamolo sì praticamente sembra adesso per certi versi dobbiamo ancora usare il condizionale sembra che per quest'anno quantomeno per un primo momento ma forse per tutto l'anno non verrà rinnovata la top di gamma Sony QD OLED la 95L potrebbe rimanere fisso anche per quest'anno a listino e Sony ha deciso di puntare molto sui mini led presentando una nuova tecnologia proprio per la gestione delle retroilluminazioni a mini led dei tv in pratica qual è la novità vera molto consistente hanno realizzato dei circuiti integrati molto molto più piccoli miniaturizzati sono praticamente grandi come un chico di riso e riescono quindi a integrare molti più di questi circuiti all'interno della scheda che controlla la retroilluminazione a gestire molte più zone ma con una gradualità necessaria secondo i criteri di Sony che da questo punto di vista è sempre stata molto avanti nel gestire le retroilluminazioni ricordiamo diciamo molto più sinteticamente che con meno zone con meno led più zone e quindi a parità di led riescono a gestire meglio gli aloni cioè l'assenza di aloni e i picchi di luminanza sì questo l'abbiamo visto diciamo anche che sottolineiamo anche che appunto il QD OLED Sony l'A95L che è uscito da poco e quindi non è anzi un problema che rimanga all'istino non ci siano aggiornamenti di fatto ancora oggi è il tv da battere noi l'abbiamo testato o meglio l'ha testato per noi Michele Di Tullio che ci sta mettendo un pochino a mettere su l'articolo però nel frattempo vi possiamo consigliare tre articoli il primo è quello di Centofanti su D-Day dell'anno scorso in realtà di fine novembre che è questo qui molto accurato poi ci sono quelli di Gianluca Di Felice e di Roberto Colombo rispettivamente su HDblog e su Hardware Upgrade che vi invitiamo a leggere in attesa del nostro test e magari un ulteriore approfondimento che è quello che cercheremo di fare nei prossimi mesi sicuramente visto che è un tv che probabilmente rimarrà a listino poi e poi ci sono poi ci sono gli altri ci sono vabbè TCL di cui ripeto non approfondiremo perché di TCL abbiamo già parlato a lungo cioè TCL ha mostrato la gamma ma in realtà l'ha mostrata più per il mercato americano perché quello che c'è in Italia che ci sarà in Italia in Europa già ve l'abbiamo detto abbiamo già pubblicato i test approfonditi sia della serie C 98 pollici il C805 che hai fatto tu Nicola e che qui ricordiamo il tuo test con misure c'è poi il P745 sempre 98 pollici con recensione approfondita che ha anche preso il nostro Editor's Choice come tv di grandi dimensioni che di fatto 98 pollici a questo prezzo è incredibile ci saranno sicuramente poi quest'anno più avanti la serie C955 la serie X955 più zone con luminanza fino a 5.000 zone la serie X955 sia per l'85 pollici perché il 98 pollici e poi la notizia bomba e che arriva al 115 pollici in realtà Nicola l'hai data tu la notizia cioè è un tv che è stato annunciato l'anno scorso addirittura ad agosto sì mercato cinese e che abbiamo visto IFA che è già disponibile nel mercato cinese è un tv da 115 pollici con fino a 20.000 zone con un picco di luminanza di 5.000 nit 5.000 nit e che arriverà sicuramente arriverà al ridosso degli europei quindi a giugno anche perché le aziende quest'anno non sembrano credere molto alla spinta degli europei di calcio per fare marketing però di fatto comunque il tv arriverà anche da noi e qui ripeto vi invitiamo anche a leggere gli approfondimenti che abbiamo fatto i mesi scorsi e che trovate comunque tutti i link in descrizione poi invece c'è Hisense che è qualcosa di nuovo ha presentato e tra le cose che ha presentato c'è probabilmente almeno per quanto mi riguarda la notizia più interessante di tutto il CS Sì soprattutto diciamo che c'era il 110 pollici anche loro Mini Red 110 Wix che poi tanto rivedremo per l'Europa dovrebbe essere uno dei tv praticamente uguali rispetto al mercato americano anche da noi dove verrà così ma più che altro Hisense ha presentato molte novità per la proiezione con moltissimi nuovi laser tv quindi proiettori a tiro ultracorto e ce n'è una in particolare che è il modello Ultra Black con la tecnologia Light Steering del quale hai parlato tu in un approfondimento dedicato Sì perché questa cosa del Light Steering che per quanto mi riguarda una piccola rivoluzione ne abbiamo parlato ne ho parlato nel reportage di Barco che è Barco diciamo uno dei maggiori produttori di proiettori soprattutto per il settore professionale per il cinema ma non solo anche per il settore home cinema il Light Steering è una tecnologia che sembrava riservata al mercato professionale di fascia altissima una roba cucita per la sala e l'abbiamo vista con grande sorpresa nei proiettori Laser TV nel proiettore Laser TV del prototipo di Isense in dimostrazione purtroppo in condizioni veramente drammatiche e quindi impossibili da giudicare però le premesse ci sono tutte e una di quelle cose che ho spiego nell'articolo ci avrei voluto pensare prima io perché effettivamente il sistema Laser TV è un sistema chiuso soprattutto per i proiettori Isense in cui tu hai la distanza di proiezione è quella l'ottica è fissa la messa a fuoco è già predisposta per la dimensione del proiettore e dello schermo in kit e quindi di fatto il sistema Light Steering che lo ricordo permette di aumentare il contrasto il picco di illuminanza perché riesce a concentrare la luce del sistema di illuminamento dove serve ed è una roba pazzesca sulla carta che non vedo l'ora di analizzare potrebbe veramente essere un doppio vantaggio per Isense perché da un lato diciamo la riporta in vantaggio rispetto alla concorrenza dei tv di grandi dimensioni perché oggi ripeto tra un Laser TV e un tv da 100 pollici che di fatto costano più o meno la stessa cifra parlo di quelli tra i 2.500 e i 5.000 e i 3.000 euro con molti vantaggi per i tv per il fatto della messa a fuoco uniformità rapporto di contrasto eccetera 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 e un po' meno per i laser tv ma con questo nuovo vantaggio si potrebbe veramente riscrivere il futuro dei laser tv certo bisognerà vedere quanto costa e il secondo è anche l'aumento di illuminanza perché con lo stesso sistema di illuminamento potendolo concentrare nelle zone più piccole di fatto è come avere un proiettore che sia 2, 3, 4 fino a 5 volte più luminoso quindi tanta roba esatto poi c'erano anche altri prototipi ce n'era uno molto piccolo quindi proprio dimensioni ridotte c'era l'8k sonic view tra l'altro l'8k l'ha presentato anche samsung nella gamma z premier dovrebbero essere degli ultra hd vovulati come come per ripartire da l'upper hd qui diciamo che si sono tre anni che annunciano sti laser tv 8k ormai speriamo di vederli prima o poi si paradossalmente quando è stato a ifa se non sbaglio addirittura c'erano non c'erano non c'erano no a ifa c'era nel samsung c'era il 4k per esempio di nuovo c'era a si ma non a ifa e si perché pare ovviamente rumors ne abbiamo anche parlato su avv magazine che il problema fossero da un lato i chip 4k nativi che di fatto non erano ancora disponibili e poi anche il dsp per controllare questi chip 4k nativi cioè gli ASIC di Texas Instruments quindi non si sa poi nella realtà se ci sarà un chip nativo 4k oppure se sarà il vecchio chip 066 quindi da 4 megapixel con una vovulazione 4x invece che 2x ci sono varie scuole di pensiero aspetteremo qui i modelli per una recensione speriamo entro la fine di quest'anno esatto poi altre cose particolari su iSense direi che non c'erano erano queste più o meno le novità la gamba tv anche qui a parte il 110 pollici sarà da vedere perché erano molto concentrati sugli Stati Uniti quindi da vedere cosa arriverà poi da noi poi al di là di Las Vegas che comunque concludiamo non c'era l'audio ma qualche news qualche annuncio di nuovo prodotto sull'audio c'era molti smart speaker qualche soundbar come la Clipsh che è ricordato c'era però per esempio SWS che ha presentato una nuova gamma di fascia alta di cui noi non abbiamo dato notizia in effetti ma lo faremo lunedì però di fatto l'audio non è più a Las Vegas l'audio quello vero c'è a Monaco di Baviera a maggio e comunque durante l'anno non è più il CS la fiera per l'audio di qualità però ecco al di là di Las Vegas ci sono anche altre notizie interessanti che ricordiamo allora prima di tutto la notizia che hai dato tu sul sul Mux le novità sulla Rai e sul Mux di cui ha parlato prima di tutto Gianfranco Giardina e vi consigliamo la lettura del suo articolo su D-Day però anche tu hai fatto un buon approfondimento sì c'è stato un evento organizzato dalla Fondazione Adria che ha presentato un libro praticamente sul futuro della televisione hanno partecipato vari disponenti anche delle emittenti c'era anche il responsabile della Rai tra l'altro proprio il settore tecnologico c'è anche la diretta nel video che ho linkato nell'articolo su AV Magazine e in questa diretta si può tra l'altro vedere tranquillamente che viene confermata una notizia che girava da un po' di tempo cioè che nel contratto di servizio Rai sia stata inserita una data per il passaggio di un Mux al DVB-T2 cioè il nuovo standard praticamente passerà il Mux B cioè Mux nazionale che contiene tutte le frequenze di molti canali a diffusione nazionale al DVB-T2 dal primo settembre quindi una parte dei canali Rai verranno trasmissi in DVB-T2 non saranno comunque i canali regionali perché loro dicono che altrimenti una parte della popolazione soprattutto quella anziana verrà tagliata fuori ci saranno tra l'altro le repliche dei primi tre canali principali Rai 1 Rai 2 Rai 3 non regionale perché vogliono fare una sperimentazione vogliono vedere in simulcast li trasmetteranno in DVB-T e in DVB-T2 per vedere se si riesce con il DVB-T2 a risolvere alcune problematiche di diffusione del segnale molto interessante questa cosa poi tra le altre novità io segnalerei anche il tuo articolo preso da flatpanelshd.com sui monitor con tecnologia OLED che tu hai arricchito ho visto sì perché ci sono molte quest'anno l'anno scorso negli ultimi diciamo di un paio d'anni sono arrivati i primi modelli sul mercato quest'anno l'aveva anche annunciato Samsung Display che voleva fare un salto di qualità con anche il numero proprio di pannelli prodotti ed effettivamente la disponibilità è molto più ampia sia OLED bianchi diciamo OLED quindi prodotti da LG Display sia i QD OLED di Samsung Display sono tantissimi modelli più o meno tutti sono molto indirizzati per i giocatori però ciò non vuol dire perché non si possono utilizzare anche per altro sono veramente tantissimi modelli sono più o meno tutti i marchi sia quelli molto legati all'informatica tipo Acer ASRock Dell ma poi ci sono ovviamente anche i vari LG Samsung sono tantissimi si parte dai 27 pollici sono i 32 pollici 34 39 45 sono sia piatti che curvi a seconda delle a diagonale cambia e molto interessante sono veramente tante le novità in arrivo dovrebbero anche spaziare un po' di più sui prezzi in questo modo perché diciamo che fino agli ultimi anni erano tendenzialmente fascia molto alta benissimo allora io chiuderei con anche una bella notizia sul software sul sito 4kfilme.de c'è l'annuncio della disponibilità della Collectors Edition di Avatar dell'ultimo da marzo che immagino sarà disponibile anche per altri paesi europei vi segnalo anche su AV Magazine oltre al mega reportage dell'evento di metà gennaio da Cherubini in cui siamo divertiti moltissimo con due sistemi magico stereo e multicanale proiettore Dream Vision e la presenza soprattutto di Daniel D'Agostino oltre a Marco Cicogna e Marco Benedetti per me è una cosa molto importante ovvero il test dell'Estelon Extreme che è diffusore top di gamma del produttore Estone distribuito da Luxury Group in cui speriamo sia il primo di una lunga serie è un test in cui il laboratorio di Giampiero Matarazzo esce e va sul campo in questo caso nel punto vendita nella bella showroom di Luxury Group è un test veramente impegnativo di un diffusore importante che spero leggerete e vi piaccia io ricordo che nel mese di febbraio ci sono parecchi appuntamenti io sono in partenza perché già da martedì ci sarà aprirà Barcellona l'ISE l'Integrated System Europe che è una fiera su audio video controllo quindi sull'OMCinema sicuramente di fascia alta sul custom installation sull'audio video e anche sul controllo sull'integrazione dei sistemi il 17 e il 18 febbraio a Bari c'è il Bari high end e noi saremo presenti stiamo anche tentando di organizzare una cosa interessante con i tv ovvero stiamo chiedendo ai vari produttori di darci un paio di tv a testa per fare uno showcase di prodotto e uno shoot out sulle tecnologie quindi non un confronto tra prodotti un confronto tra temi tipo HDR contro SDR 8K contro 4K e così via e poi a fine febbraio c'è il solito Mobile World Congress dove ovviamente saremo presenti ciao Nick grazie ciao ciao